Ci siamo da sempre organizzati, siamo sempre stati presenti e quindi io ringrazio i miei colleghi per questa abnegazione e questo impegno che hanno profuso oltremodo, oltre orario in tutto questo periodo. E direi che il territorio, la sanità del territorio è costituita da questa rete di farmacisti che hanno proprio svolto egregiamente anche un ruolo di filtro. Durante il periodo del coronavirus la provincia di Brescia è stata una tra le più colpite dall'emergenza sanitaria. Il sistema sanitario è stato messo a dura prova con i professionisti impegnati incessantemente su tutto il territorio. Un ruolo fondamentale, seppur in punta di piedi, è stato svolto anche dalle 375 farmacie e dai 1500 farmacisti che operano in provincia. In un momento di emergenza sanitaria drammatica il sanitario sul territorio che è stato più facilmente accessibile, in quanto le farmacie sono sempre aperte, sono capillari presenti in tutto il territorio della provincia, aperte 24 ore al giorno, aperti i giorni feriali, i giorni festivi, il sabato e la domenica, hanno rappresentato il punto di riferimento per la popolazione. Una popolazione presa dal panico, una popolazione preoccupata, sotto stress e nel deserto dei comuni, dei territori, hanno avuto un punto di riferimento che desse loro non solo i dispositivi di cui avessero bisogno, non solo le cure e i medicinali di cui hanno bisogno, ma desse loro anche un'assistenza globale. Nel periodo di difficoltà sono arrivate numerose risposte, dall'ossigeno ai gel disinfettanti preparati nei laboratori galenici, senza dimenticare la dematerializzazione delle ricette. In farmacia abbiamo creato i disinfettanti che in un certo momento non erano più reperibili sul mercato dal punto di vista industriale. Abbiamo cominciato a fare dei servizi di consegna a domicilio, un po' organizzati dal sistema, ma molto spesso organizzati anche dal singolo farmacista che dopo gli orari di lavoro e di apertura cercava di consegnare a casa farmaci o qualche volta anche l'ossigeno che ha rappresentato in un certo momento l'unico strumento di sopravvivenza per alcuni pazienti. Per le ricette abbiamo sicuramente facilitato il processo dando seguito alla dematerializzazione delle ricette e per quanto riguarda i dispositivi di protezione ci siamo impegnati, pur in un momento di drammatica carenza, a fare in modo che alla popolazione non mancassero mai.